L'elettrificazione tra Conegliano e Belluno consentirà di avere un treno diretto per Venezia, il progetto della variante di Longarone una distribuzione dei flussi che consentirà di prevenire gli ingorghi. Si sbloccano due partite importanti sotto il punto di vista infrastrutturale. Il presidente della regione Luca Zaia annuncia il treno diretto Belluno-Venezia per l'estate e il completamento dell'anello Belluno-Feltre-Montebelluna-Conegliano entro il 2024. Quando tutti i lavori saranno completati, viaggiare in treno partendo da Belluno con destinazione Venezia o Padova potrà avvenire senza rottura di carico, spiega nel dettaglio l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti. Intanto dal tavolo provincia ANAS è uscito il tracciato definitivo della variante di Longarone. Entro l'estate avremo anche il progetto definitivo di questa opera che di fatto dall'autostrada si innesterà fino a sotto l'abitato di Castellavazzo in galleria e quindi fino alla galleria di termine. Con questa opera andremo a risolvere in maniera definitiva quello che è il nodo di Longarone attraverso un'opera che comunque sarà lungo il Piave, permetterà di risparmiare circa 4 chilometri quindi anche del tempo prezioso ma soprattutto sarà una nuova via a scorrimento veloce che era attesa ormai da decenni e che mi auguro possa veramente vedere la luce nei prossimi anni.